Il titolo a dire la verità è da un'idea di Matteo, e nasce sicuramente dall'idea di raccontare da una parte un ricominciare. Io devo dire che sono un po' legata al ciclo scolastico, nel senso che per me l'inizio dell'anno è a settembre, non è a gennaio. Quindi quello unico fatto che il film era avvenzato a settembre, che era un giorno di attivanza. Poi dopo ci siamo resi conto che esiste anche questo film, che conosciamo tutti gli altri da me e questo. Lo vedrai, lo vedrai. Farò un ciclo di film due mesi. Un po' lo schiccio. Cioè la storia... La storia? La storia nasce da una serie di storie che mi è cantato nel tempo di risentire. La storia dei ragazzi nasce da dei racconti che faceva la sorrentina di una mia amica. e ci raccontava cosa succedeva a scuola, nei bagni. Tutta mia amica eravamo un po' sconvolte. E poi però pensandosi ho detto C'è un po' questa grandissima attenzione e anche facile accesso di ragazzi a certi temi. E poi invece il fatto che di fondo c'è sempre l'emozione, i sentimenti, il palazzo. E quelli sono universali, sono gli stessi. Per esempio trovavo io alla loro età. E quindi mi piaceva proprio raccontare l'atterito contemporaneo tra una grandissima praticità. e come insomma si occupano della posizione. E poi invece i sentimenti universali che sono sempre quelli in cui spero tutti possano aver riconosciuto i loro adolescenti del passato. La storia delle donne invece nasce da un racconto che ho sentito a tavola con amici di Vieri che c'era il suo amico sconvolto perché questa storia era successa a un suo amico. E poi la mia moglie, la mia moglie, la mia moglie storica, hanno lasciato i famigli che hanno detto che prendono loro una casa e quando l'altro. Allora l'autorale è estremamente divertente perché queste storie viste dall'esterno sono ovviamente... Sono estremamente inquietanti per certi letti. Sento dall'altra... Esatto. Infatti il vero è inquietante. Non me lo aveva raccontato. Però vedendola dall'esterno mi ha anche un po' benedizio. Anche ridere un po'. E poi niente, la storia invece di Vieri, di Vieri, di Vieri, di questa giovane ragazza, è più un'idea che fai vivi in una grande città. Un po' che esci fuori da Roma e vedi queste ragazze e ti chiedi. E quindi... Però tutte queste storie sentivo che erano unite nella mia testa. Poi da un tema comune che sentivo forte che è un po' una unicità di sentimenti, un... arrivare a contatto con se stessi nel momento in cui... si è sempre in vero contatto un po' al seno che mi sveglia da una situazione magari anche in cui sei assubito, sei incastrato. Non vai all'arma senza chiederti più se è quello che veramente volete o no. E quindi mi piaceva molto raccontare questo risveglio, queste storie si toccano a piena però influenzandosi molto. quindi è nato così, mi rendo conto che non è semplice d'ascoltare com'è nato perché è molto articolato, però poi io sento che erano estremamente uniti. Grazie.